Ave a tutti i miei legionari e barbarazioni non iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e oggi siamo ancora una volta con Urbino, guidata dalla dinastia dei Borgia, nel nostro difficile tentativo di riunire l'Italia, anche se stiamo andando molto bene, la Russia è in unione personale con noi e noi probabilmente verremo eletti come prossimi imperatori del Sacro Romano Impero, che spero riusciremo a unire naturalmente, perché non sarebbe affatto male. Allora, vi voglio ringraziare come al solito per i commenti, invito tutti voi a lasciare qua sotto un bel mi piace e a condividere il video con amici, nonché iscrivervi se siete dei barbarozzi puzzolenti non iscritti, scherzo come al solito, però iscrivetevi, mi raccomando mi fareste piacere, soprattutto se il video vi piace. E allora ragazzi, un po' di cose che mi avete detto negli scorsi video, uno di voi mi ha detto perché ripaghi i debiti, ha più senso costruire infrastrutture, è anche vero, però preferisco non avere i debiti in modo da potermi indebitare come lo schifo se fosse diplomatico, se fosse diplomatico scusate, se fosse necessario per varie ragioni. Tra l'altro uno di voi mi ha detto che spesso si baggano le spese diplomatiche, me l'ha detto in un commento di un po' di video fa, e lo ringrazio perché pensavo di essere stupido io e non capire in cosa rispendevo, invece ogni tanto si baggano, in questo momento non sono baggate perché per l'appunto stiamo supportando i lealisti in Russia, e quindi va bene così. E altre cose che mi avete detto? Oddio ce n'era un'altra ma al momento mi sfugge, proprio non mi ricordo, va bene in ogni caso abbiamo quasi finito qua le core, abbiamo un po' troppe relazioni, ah, sì, ne abbiamo una di troppo al momento, con chi? Vabbè, ce le teniamo, ce le teniamo per ora, questo però vorrebbe dire che con Tunisi, cioè scusate, con i mammelucchi, forse sarebbe meglio non giustificare, ah, vabbè, adesso vedremo bene cosa fare, decisioni nazionali non abbiamo niente da fare, al momento il nostro scopo è rinforzarci, e nello specifico vorrei altre unità di cannoni, stiamo migliorando relazioni varie e sparse, abbiamo ancora dei debiti, ok, questo tienimelo, questo non mi interessa, successione disputata in Magdeburg, wow, che è uno dei vassalli dell'impero, adesso non mi ricordo quale, eccola qua, e il re è giovane? No, il re non è molto giovane, chi potrebbe salire al trono? Ah, un nobile della casata dei Borgia, sarebbe un bel momento per la nostra dignastia, anche se loro contano poco, avere un altro Borgia là in zona, Borgia che, ah, abbiamo un bel grigio oggi, e guardate che bello vederlo qui, perfetto, perfetto, ok, continuiamo a riprenderci, rischio di ribellione, sì, un filo dei mammelucchi, finito il miglioramento dell'opinione con Tunisi, possiamo fare un nuovo state, potremmo intervenire nella guerra in Spagna, ma ho già detto che non mi interessa, non mi interessa la Tregue, non mi interessa l'Arrest, la ribellione mammelucca, ok, e quindi in dedubbio cominciamo anche a riattivare i forti, scusate ma questa canzone al momento non mi piace, quindi la faccio balzare avanti, state, potremmo farne un altro, e fatemi controllare, ne potremmo avere fino a 27, quindi direi sì che lo andiamo anche a fare, ok, ci guadagniamo anche, poi, non possiamo ancora fare quelle core lontane, probabilmente perché ci mancano queste tre, va bene, quindi ci tocca ancora aspettare un secondo, l'alleanza con la Spagna, non la voglio rompere, quindi la teniamo così com'è, possiamo migliorare qualche altra opinione, magari con la Bohemia, vediamo se può servire a qualcosa, e dovremmo migliorare ulteriormente anche con Bremen, per essere sicuri per l'appunto che voterebbero per noi, ci vedono molto bene al momento ma non ci siamo alleati né niente, quindi non vorrei che rompessero l'alleanza, debiti fra tipo un turno potremmo ripagarne un altro, 90% rischio di ribellione, quindi direi che cominciamo ad alzare il mantenimento dell'esercito, perché non voglio assolutamente rischiare, stiamo reclutando, no, però, Coltuarnus dalla Bohemia, Croazia alleata con Magdeburg e Venezia, cazzo però Magdeburgo, niente, così svolta però, Magdeburgo ma noi siamo alleati, va bene, entriamo, magari Magdeburgo non entra, Magdeburgo è entrata, peccato, peccato, e niente, è per il fatto che ora come ora ci siamo in guerra, ok, questo rende ancora più importante dichiarare, cioè dichiarare, continuare a migliorare le relazioni naturalmente con Bremen, per avere un altro voto assicurato, in ogni caso al momento abbiamo la maggioranza dei voti per il trono imperiale, le nostre truppe qua a sto punto le portiamo al massimo, legittimità possiamo, potremmo, fra non molti turni, aumentarla ancora, va bene, qua, dove potrebbero spuntare fuori, ma melucchi a Cus, Aswan e Isna, che dato che sono giù, allora spostiamo giù anche le nostre truppe di conseguenza, però questi forti non li abbassiamo perché non si sa mai, al momento quindi siamo in guerra con Venezia, e io avrò molto piacere nel far male a Venezia, andiamo io ad assediare Mantova, direi che potrebbe essere molto interessante come cosa, la nostra cavalleria la mandiamo invece a Parma, mentre un po' di fanteria la mandiamo magari a Cremona, non è possibile, a Brescia sì, e anche a Trento, vabbè, per il momento li mettiamo verso Ferrara, perché non vorrei vedere spawnare fuori l'esercito veneziano, per l'appunto, per l'appunto, ok, facciamo un movimento di questo tipo, vedete, tra l'altro loro si stanno spostando a Ferrara, ah, dove ci sarà per forza una battaglia, allora facciamo così, voi rimanetevene fermi qua, vediamo se possiamo dare il comando del truppe al nostro erede, sì, perfetto, truppe riunitevi, ok, loro arrivano il 18 febbraio, ci hanno fatto un po' di male, ma adesso li massacriamo, sbù massacrati, perfetto, le nostre truppe con cannoli, le mandiamo a prendere quel territorio, adesso siamo in guerra anche con la Croazia, tutta questa guerra è per mostrare la superiorità alla Croazia, wow, wow, il war leader, siamo noi o è la Bohemia però? in realtà è la Bohemia, ok, ah, cazzo, la flotta, la flotta ragazzi, io non voglio perdere la mia flotta, bene, questa in teoria gli ha interrotto la missione, l'ha rimessa in porto, saggio da parte tua, queste sono qua ferme, e ok, allora andiamo avanti, loro si stanno andando a ritirare al momento, queste truppe, le mandiamo qui, ah però scusate, mi serve il generale qui a dire il vero, Alessandro potrebbe velocizzare l'assedio, no, ma quando mai, non ha abilità d'assedio, quindi no, non può farlo, va bene, non importa, non importa, allora sapete che vi dico, che teniamo le nostre truppe a saccheggiare Parma, la maggior parte, dato che non ci servono tutti lì, facciamo una cosa tipo di questo ordine, va bene, abbiamo migliorato al massimo le relazioni con la Russia, Manpower ci basta, no, ci finirà entro poco, ok, al momento siamo sempre quello con più voti, perfetto, Liberty Desire russo è al 51%, e devo dire che questo mi intristisce molto, ma non sapete quanto, vabbè, speriamo che la cosa migliori a breve, possiamo andare a fare altre core, sì, finalmente le possiamo fare anche sugli altri territori, e le facciamo anche su quelli, dove abbiamo creato lo Stato, possiamo passare al nuovo livello tecnologico, e abbiamo ancora una penalità per le istituzioni, che però entro poco dovrebbero arrivare anche all'interno del nostro impero, tra l'altro ho già lavorato in favore della prossima, dell'illuminismo, l'anno deve essere il 1700, Roma deve essere connessa alla capitale di Urbino, vabbè, ci sono un bel po' di cose che avevamo già, ho aumentato di uno il development per avere anche quello, e costruirò un'università a Roma, dove spero anche di riuscire a spostare la capitale entro breve, tra l'altro cosa utile potrebbe anche essere quella di mettere un editto, degli editti o meglio, per velocizzare la diffusione delle istituzioni in queste zone, naturalmente ci aumenterà i costi per un determinato periodo, però direi che perlomeno in Italia vale la pena, più che altro perché già so che dovrò pagare per averlo in tutto il mio impero, dato che abbiamo molti territori esterni, quindi preferisco essere aiutato e prenderlo a gratis, diciamo, in queste regioni, Verone mia, sì, mi andrà a costare un patrimonio? No, fortunatamente no, bene, abbiamo anche quasi preso la, migliorato al massimo le relazioni con la Spagna, possiamo creare un nuovo state qua sotto, che però secondo me non ne vale assolutamente la pena, quindi ciao, perfetto, ribellione Mammelucca, potrebbe scoppiare ancora a breve, ci stanno ancora facendo del male, perfetto, va bene, allora possiamo velocizzare un po' la situazione, voi cannoni andate a Mantova, perfetto, ah, povero, Alessandro è un entusiasta ingenuo, e questo rende più difficile il miglioramento delle relazioni, rivolto ad Aswan, 20.000 Mammelucchi, andiamoli a prendere, perfetto, quindi questo vuol dire in teoria che posso abbassare qua, poi, ci potrebbe essere anche una ribellione a Cassibrim, perfetto, avremo già le truppe lì, mentre, a breve, ci potrebbe essere anche in questa zona, quindi dopo aver sconfitto i ribelli qui, sia i Mammelucchi che i Dongolani, o Dongolesi, non so sinceramente come si chiamino, direi che cominceremo a spostare con queste 5 navi che abbiamo fatto ad hoc, le nostre truppe qua, ah, tra l'altro abbiamo la Mecca ragazzi, gli ottomani devono essere abbastanza stizziti di questo particolare, immagino, va bene, continuiamo a migliorare le relazioni con i vassalli dell'impero, tra l'altro, in teoria la Bohemia dovrebbe votare noi, faccio notare come prossimo imperatore, però non lo fa, quindi ok, l'assedio di Mantova è finito, abbiamo migliorato al massimo le relazioni con Bremen, e allora, perché l'ho mandato? L'ho mandato in Bohemia, io volevo mandarlo a dire il vero in Ditmarschen, e in Lunenburg, e uno volevo tenermelo libero, perfetto, andiamo a prendere Cremona, Brescia e Trento, tra l'altro magari ci daranno qualcosa a seguito di questa guerra, i nostri amici boemi, che di sicuro si prenderanno il territorio croato, anche se non è detto, perché comunque volevano solo mostrare superiorità, in cosa? Boh, non lo so, però contenti loro, contenti tutti. Tra l'altro, lo so che siamo già in rosso, ma io comincerei la conversione con cattiveria delle zone conquistate, direi che mi sembra un'ottima mossa, tanto i debiti adesso li ripagheremo, ma avremo anche qualche riparazione di guerra, quindi no problemo, diciamo, abbiamo perso delle navi nella battaglia di Alessandria, perché abbiamo perso delle navi? Non abbiamo più una flotta? Perché non abbiamo... No, scusatemi, Ah, c'erano le nostre navi in giro, mi sa che abbiamo perso davvero tante navi, e questo è stato un errore gravissimo. Non so come gli è venuto in mente di uscire, ragazzi. Ah, trasporto automatico, probabilmente, devo aver sbagliato qualcosa. Vabbè, errore mio, ci starò ben più attento. Ah, comunque, fatemi segnare che questa flotta è la flotta del Mar Rosso, così almeno so a cosa mi serve. La chiamiamo Navis, Navis rossa, e la Navis Mediterranea. Peccato, peccato, perdere le navi così stupidamente è brutto, però vabbè, ragazzi, Mediterranea. Perfetto, siamo in rosso di 1400 uomini per quanto riguarda il Manpower, e devo dire che è un ottimo risultato, migliorato al massimo le relazioni qua, è scoppiata la rivolta, buono, dico buono perché almeno li massacriamo e non rompono più le balle per un po'. No, la prendo io, Trento, non ci provare, non ci provare, non ci prova. Va bene, andatemi a prendere anche il Friuli, questi qua perché si stanno spostando, bella domanda, è finita la guerra. È finita la guerra, Croazia, dal 10%, ok, World Reparation alla Bohemia, abbiamo preso 16 Ducati, e del prestigio, la Croazia ci deve dei favori, ok, no, scusate la Bohemia, vabbè, devo dire che è stato molto utile, Magdeburg, io però voglio rimanere alleato con te, anche perché voglio che voti per me, quindi, torniamo a Mishi per favore, Mishi, Mishi, Gran Bretagna, c'è morto un advisor, guerra civile inglese, addirittura, è iniziata o finita, non l'ho ben capito, ma non importa, abbassiamo tra l'altro tutti i forti, che a sto punto non ci servono più, oh, è bello vedere però il militarismo al massimo, perfetto, manutenzione dell'esercito, per il momento la teniamo attivata, voi tra l'altro cominciate a farvi spostare qua, flottina, mi dispiace che ti sei fatta tanto male, una nave si può gradare, qua non si può gradare niente, buono, cioè buono per così dire, mi servirebbe un nuovo advisor, vediamo se ne viene fuori uno di migliore, perfetto ragazzi riunitevi, tra l'altro stiamo ancora rinfoltendo, sì a quanto pare, stiamo ancora rinfoltendo, voi vi chiudete, tra l'altro c'è Cesare Borgia alla guida, mamma mia, ragazzi non so voi, la volta scorsa mi sembrava troppo bassa la musica, questa volta forse fin troppo alta, morale degli eserci, no qualcosa, voglio qualcosa di meglio, però è l'ultima volta che provo a cambiarlo, perché sennò qua è un casino, mi spreco tutti i soldi, e devo assolutamente ripagare i miei debiti, perlomeno secondo la mia strategia, devo ripagarmi i debiti, poi direi che andiamo a fare un po' di spy network qua, un po' di spy network qua, e ce ne teniamo uno libero, perché non si sa mai, qua mi hanno già spezzettato tutto per lo spostamento, bravissimi, bravissimi, è così che si fa, Magdeburg c'è ancora la possibilità che, ci sia una successione strana, Liberty Desire Russo è al 56%, il che è un peccato, il che è davvero un peccato, ah tra l'altro, ecco così era la cosa, come ha consigliato uno di voi ragazzi, penso di far pressare alla Russia, le sue varie claim, ma quando lo farò, quando il suo Liberty Desire sarà sopra il 50%, e le sue truppe sono sicuro che combatteranno, questo perché? Perché voglio usare la Russia, o meglio le truppe della Russia, per ampliare la Russia stessa, in modo da non doverci mettere niente io, per così dire, e mi sembra una buona idea, fatemi sapere comunque cosa ne pensate, tipo Perma, dovremmo potergli fare male abbastanza facilmente, perlomeno la Russia dovrebbe esserne in grado, guardate qua quante claim ha, dichiariamo guerra, boom, vincono, oddio, in realtà potremmo anche farglielo fare subito e vedere cosa succede, sapete che quasi quasi, non entrano neanche gli alleati, allora facciamo che gliela faccio partire la guerra, annullate quello che ho detto, magari la facciamo partire per quello che vale di più, che è la miseria, Keridin, la guerra inizia per Keridin, che è quella che vale di più, guerra per Keridin, vai, tra l'altro, ah, è peggiorata la relazione, sono peggiorate le relazioni con la Russia, adesso mi chiedo se muoverà, o meno, sembra di sì, l'armata imperiale russa, ah, ah, Rosy, fate un po' quello che vi pare, tanto, io me ne sto fuori da questo conflitto, fatemi controllare quante truppe ha Perma, giusto per vedere se ce la potete fare, direi di sì, 16.000, ok, Rosy, è tutto vostro, ranges, e miglioriamo queste relazioni, perché, a sto punto ci lascerò un diplomatico fisso, perché, non, non voglio mica fare da spola, tra l'altro, fatemi riabbassare tutto, anche l'army maintenance, potrei sfruttare l'occasione per i debiti di guerra, però no, in compenso, mi aumento la legittimità, e, eh, l'assolutismo, che direi che può essere una buona mossa, e andiamo, e andiamo, direi che facciamo andare un attimo veloce al tempo, più che altro, perché voglio davvero vedere cosa fa la Russia, ovvero niente, eh, Russia, buona fortuna, vai, io ti metto questi scopi, Russia, 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 e, Russia, ancora Russia, perfetto, eh, gli potrei chiedere share map, probabilmente sì, request to share map, ma non me lo farebbero, perché sono dei colonizzatori, e perché sono ostili nei miei confronti, qualcuno condividerebbe le mappe con me, sì, ma non ho diplomatici, ah, che bello, che bello, va bene, allora facciamo andare il tempo con estrema cattiveria, l'esercito russo non sembra volersi muovere da qua, no, invece sì, invece sì, stanno andando, stanno andando, ben fatto, rivolta a cosacchi in Russia, l'esercito russo è così piccolo, che dove sono gli altri, ne hanno anche 7000, che non capisco dove siano, bella domanda, bella domanda, vabbè, fatevi un po', fatevi hobbies, voglio dire, ranges ce la potete fare, c'è l'advisor che non l'ho ancora messo, vabbè, mettiamoci questo a sto punto, per averne almeno uno, direi che ci accontentiamo, l'institution tra l'altro è arrivata o non è arrivata, fatemi controllare mentre il tempo va, non è questa, è questa che volevo, io il global trade penso, penso che non sia ancora arrivato comunque, ah no, è manufaturis, ok, non è ancora arrivato nei nostri territori, ma entro poco spero lo accetteremo, vediamo cosa stanno facendo i russi, non si capisce, ah merda, compensare i trader, non compensarli, no, non lo faccio, anche se perdo un po' di lealtà, mi dispiace, in compenso, direi che vi chiedo anche dei soldi, ma vi do dei monopoli, sì, perfetto, 40% direi che ci può stare, perfetto, possiamo ripagarci un altro debito, ce ne manca solamente uno, perfetto, Russia 53%, però le relazioni vedo che continuano a peggiorare, sarà anche per l'over extension? Potrebbe, in ogni caso fra un po' avremo fatto le claim, gli ottomani ci seminano discontento, discontento, malcontento scusate, sono scemo io, andiamo a reinvigorire il massimo però un secondo le truppe, per almeno un mesetto o due, dovrebbe bastare due mesi, no, ne servono tre, ok, perfetto, dai, ciò, fatto, hanno sconfitto i ribelli a sud, e adesso stanno tornando a nord, le truppe russe, dai che ce la potete fare, non credo che vi farete sconfiggere da Perm, e non fatelo per dispetto, per l'amor del cielo, 52%, dai che ci siamo quasi, dai che ci siamo quasi, possiamo fare una claim sui mammelucchi, ok, magari gliela facciamo, su, 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 una che vale un po', magari Faium, perfetto, gliene possiamo fare altre tre, però sapete cosa, al momento magari, magari mi tengo il diplomatico peraltro, non so ancora bene cosa, ma me lo tengo peraltro, ok, e facciamo passare un po' di tempo, e vediamo che succede, ragazzi, dopo millenni, ce l'abbiamo fatta, il Liberty Desire russo, è finalmente, 49%, devo dire che sono, a dir poco commosso, tra l'altro, ho finito di ripagare i nostri debiti, e sto lentamente ricostruendo, la nostra flotta, perlomeno ho cominciato a dare, l'ordine di fare qualche nave, vi chiederete, perché non lo fai da qua? Perché è tutto buggato, ragazzi, è tutto buggato, e se io cercavo di costruire le mie navi da qua, essenzialmente le faceva tutte a Siena, e mi chiedo, perché? Perché? Non ha il minimo senso, non lo fa con le truppe, perché lo dovrebbe fare così? Boh, vabbè, quindi ho ripiegato, e le sto facendo semplicemente in Italia, bene, direi che per il momento, mi accontenterò della costruzione di queste navi, tra l'altro, sto facendo accumulare un po' il manpower, poi penso che una volta che saremo a 20.000, inizierò la costituzione piano piano della terza legione, giusto per essere sicuro di avere più manpower, bello tra l'altro come sia Tunisi determinante nella guerra contro Perm, e che non ci sta facendo perdere la guerra, perché la Russia non sta facendo niente, sta giocando da chiapparello con i cosacchi, e devo dire che è molto divertente come cosa, è davvero molto divertente, sono molto contento, adesso mi chiedo cosa farà l'esercito russo, ora che può effettivamente agire, dato che teoricamente deve obbedire ai miei ordini, altra cosa interessante, allora, non so sinceramente se, voglio finire l'idea di spionaggio, o avere l'idea diplomatica, no dai sì, lo so, bam, meno corruzione ogni anno, così magari ci costa meno, e posso fare degli atti nuovi, interessante, degli atti penso, che dovrebbero essere qua, probabilmente sono qualcosa altro qua, boh, vabbè, in ogni caso, cosa possiamo fare, allora, Vassal Force Limit Contribution, magari dovrei togliere qualcosa qua, per non spendere troppi punti con le politiche, però, è anche vero che questa, non mi costa niente, questa non mi serve, questa non mi serve, questa non mi serve, potrei togliere una di queste, tipo questa, che al momento non mi serve, contro, non mi serve in alcun modo, mi fa solo sprecare punti militari, una a quanto pare la posso tenere attiva, senza, senza spenderli, però direi che, le altre le tengo attive, anche perché anche il Force Limit aumentato, non ci sputo sopra, finché non sono imperatore, anzi, ho anche cominciato la conversione, avendo, ottenuto i, le core, possiamo dire, su questi territori, quindi, buono così, la ribellione qua, sembra abbastanza rallentata, sto continuando a migliorare i rapporti, con, con i vari principi, elettori all'interno dell'impero, sono quasi tentato di migliorarli, anche con la Turingia, ma, no, non lo farò, adesso lo mandiamo, a Magdeburg, tocca a voi, migliorare un po' le relazioni, ho deciso di lasciarne uno fisso, in Russia, perché, così almeno non devo mandarlo, farlo tornare indietro, eccetera, eccetera, Magdeburg, non c'è più il problema della successione, che però adesso c'è in Dietmarchen, chissà, magari c'è uno della dinastia, dei, dei Borgia, in Magdeburg, e non me ne sono accorto, no, ci sono i Fonturingen, Stuckenwanderlft, ok, Arnsberg, 51 anni, potrebbe succedere in realtà che un Borgia, sale al trono, bello, bello, sono, sono, sono davvero euforico ragazzi, per questo, tra l'altro, per quanto riguarda la disciplina, dato che adesso un po' di soldi ce li ho, per aumentarla, cosa guadagnerei qua? Danno ridotto per le riserve, general drill, armadillo gain modifier, general cost, non è male, quanto mi costerebbe fare un po' di drilling, con il nostro caro Cesare? Fatemi controllare, è accettabile, devo dire che è accettabile, io lo faccio fare più che volentieri, sono quasi tentato di farglielo fare anche di qua, fatemi vedere un po', massimo decimo meridio, è vero? No, ecco, magari di qua no, tanto adesso dovrà combattere anche i ribelli, nello specifico, tanto dovrei poter essere, sono obbligato a tenerlo così, quindi, meglio tenere le truppe pronte, anche se non so quanti ne spunterebbero fuori, urca, 32.000, qua ci sono i cosacchi russi che rompono le balle, e i russi hanno deciso che finalmente vogliono fare qualcosa contro Permo, bravissimi, bravissimi, sono fiero di voi, ho paura però che farli ampli, familiare possa essere deleterio per noi, perché sarebbero più forti, quindi aumenterebbe il Liberty Desire, però non saprei, tra l'altro cazzo ragazzi, siamo andati assolutamente fuori tempo, come al solito io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate qua sotto un bel mi piace, e mi raccomando, vi aspetto nel prossimo episodio, nel frattempo date un'occhiata alle altre campagne, già finite sul canale o in corso, come per esempio, Imperato a Roma, a tutti e a presto.